Lasciami tranquilla, ti voglio solo parlare, ho pensato possiamo fare così, io trasfesco il mutuo, troviamo un'altra casa, cambiamo aria e ci andiamo di qua, e vedrai che le cose si sistemano. Ma lo capisci che queste cose sono le cose che desideri tu? Quali sono le cose che desideri tu? Ormai non ha più importanza. No, dimmene. Per esempio ti avevo chiesto di sposarmi. Ma hai detto di no. Voglio andare un periodo a casa mia, non era mai il momento. Voglio un altro figlio, non si poteva. Che? Abbiamo ancora un tempo. Io non ce la faccio più Marco. Io ti vedo ancora bene però. Allora dimostramelo. Se hai un po' di fiducia in me, lasciami partire. Martina, abbiamo il dovere di pensare al benessere di Matteo. Ciao. Ciao.